parliamo del metodo di b sezione quindi diciamo punto 1 è un metodo iterativo e si basa sul teorema di esistenza degli zeri il teorema di esistenza degli zeri, l'uno ricorderà, si enuncia dicendo quanto segue assegnare una funzione y uguale a f con x continua nell'intervallo chiuso e limitato a b in cui il prodotto delle ordinate agli estremi di intervallo f con a per f con b risulti essere negativo allora in queste condizioni esiste un punto x con 0 in cui si annulla il valore della funzione che si chiama 0 della funzione ecco in questo grafico in rosso riportiamo un tratto di funzione e evidenziamo con x con 0 lo 0 della funzione ecco x con 0 cioè il punto in cui la funzione taglia interseca l'asse delle ascisse si chiama 0 della funzione teoremi che garantiscono unicità della soluzione quindi il primo l'abbiamo già enunciato precedentemente e diceva appunto questo se una funzione fx è continua, l'intervallo chiuso è limitato a b in cui il prodotto delle ordinate agli estremi risulti essere negativo il che significa avere f con a positivo e f b negativo e viceversa comunque le ordinate di segno opposto allora l'equazione fx uguale a 0 ammette almeno una soluzione in intervallo aperto a b ricordiamo che gli zeri di una funzione si trovano ponendo f con x uguale a 0 ovvero facendo un sistema tra la funzione y uguale a f con x e l'asse delle ascisse di equazione y uguale a 0 poi abbiamo dei teoremi di unicità che garantiscono l'unicità della soluzione il primo dice che data la funzione y uguale a f con x continua in intervallo chiuso e limitato a b quindi con la condizione che il prodotto delle ordinate agli estremi sia negativo e con la condizione che la derivata prima sia diversa da 0 in a b ricordiamo che se uguale a 0 diciamo questo implica l'esistenza di punti stazionari punti di massimo di minimo relativo o punti di flesso a tangente orizzontale allora l'equazione fx uguale a 0 ammette una e una sola soluzione nell'intervallo aperto a b il secondo teorema di unicità dice questo data la funzione y uguale a fx continua in intervallo chiuso e limitato a b in cui f con a per f con b risulta essere negativo ricordiamo che si ripete questa prima parte della definizione s questa volta si parla non di derivata prima ma di derivata seconda se la derivata seconda è sempre positiva o sempre negativa e qui l'alunno ricorderà che la positività o la negatività della derivata seconda implica la concavità rivolta verso l'alto o verso il basso ecco in questo caso allora l'equazione fx uguale a 0 ammette una ed una sola soluzione nell'intervallo aperto a b ecco garantita l'esistenza con il teorema degli zeri e garantita l'unicità della soluzione passiamo ad un esempio pratico qui abbiamo un esercizio abbiamo una funzione che è una cubica chiaramente l'alunno non ha disegnato una funzione l'equazione deve determinare senza aver fatto il grafico eventuali zeri della soluzione ricordiamo che l'equazione di grado n ammette al massimo n zeri intersecando e ponendolo uguale a 0 ricordiamo noi parliamo di soluzioni del campo complesso quindi alcune saranno reali altre saranno naturalmente da trovare appunto nell'immaginario svolgiamo l'equazione posso usare due metodi qui abbiamo un metodo grafico e un metodo diciamo di bisezione metodo grafico si serve della rappresentazione grafica più che della funzione diciamo di come si possa determinare questo 0 utilizzando naturalmente una rappresentazione grafica qui la 1 può vedere questo l'equazione lo 0 si trova ponendo x al cubo più 2x più 5 uguale a 0 e quindi lo facciamo qui ponendo appunto quanto detto uguale a 0 poi portiamo al secondo membro 2x più 5 e quindi si può scrivere come x al cubo uguale a meno 2x più 5 ecco questo ci fa pensare se vogliamo ad un sistema tra una cubica di equazione y uguale a x al cubo e la retta di equazione y uguale a meno 2x meno 5 se facciamo questo sistema alla fine risolvere questo sistema significa trovarsi a risolvere questa eguaglianza tra l'equazione di una cubica y uguale a x al cubo di cui il grafico è noto e l'equazione di una retta e io qui riporto nella slide successiva quanto detto in rosso la retta di equazione y uguale a meno 2x meno 5 che ha una pendenza negativa quindi è decrescente e in verde la cubica y uguale a x al cubo è una funzione di distra rispetto all'origine vediamo che il punto in cui queste due curve si intersecano è il punto in cui si ha la stessa ordinata quindi è il punto in cui abbiamo anche come ascissa x0 quello che noi stiamo cercando lo 0 della cubica naturalmente dobbiamo ricordare questo che questo è uno 0 reale ricordiamo che l'equazione mette al massimo n soluzioni un'equazione di grado n nel campo complesso x0 è lo 0 che stiamo cercando e vediamo che questo 0 guardando il grafico ripeto, l'aluno qui è in grado di interpretare geometricamente lo 0 perché è in grado di rappresentare il grafico della cubica e della retta perché lo sa fare si vede subito che questo 0 x con 0 si chiama è compreso tra meno 2 e meno 1 quindi è un numero compreso in questo intervallo e questo invece è il grafico della cubica rappresentato non è stato fatto uno studio della funzione ma abbiamo riportato un grafico tramite delle applicazioni si vede subito che il grafico della funzione x al cubo più x più 5 è questo e si vede anche che il punto x con 0 che è il punto in cui la curva in blu taglia l'asse della scissa è compreso tra il punto A e il punto B il punto A coordinate meno 2 0 il punto B meno 1 0 e quindi possiamo dire che dal metodo grafico qui solo uno lo può dire lo 0 della funzione è compreso in questo intervallo e qui possiamo anche ricorrere al teorema resistenza degli zeri il teorema dice che se la funzione è continua in intervallo A B e ha suonato di segno opposto agli estremi e qui lo possiamo vedere che in meno 2 è negativa in 0 è positiva io qui sto parlando dell'intervallo però che va da meno 2 ecco naturalmente a 0 ecco naturalmente meno 2 è 0 non è meno 2 è meno 1 qui va corretto l'errore diciamo che in meno 2 risulta essere negativa e in 0 risulta essere naturalmente positiva quindi ecco nell'intervallo meno 2 è 0 sopra si deve considerare meno 2 è 0 vale il teorema di esistenza degli zeri in quanto la funzione è continua e in quanto naturalmente assume il loro disegno opposto agli estremi inoltre possiamo anche fare la derivata prima e la derivata seconda la derivata prima risulta essere 3x quadro più 2 la derivata seconda è 6x e quindi possiamo dire che noi abbiamo detto prima che se la derivata seconda è positiva o negativa si garantisce l'unicità tutto questo è verificato nell'intervallo ripeto meno 2 è 0 e andando avanti qui presentiamo invece passiamo dal metodo grafico con cui abbiamo affrontato prima l'esercizio al metodo di bisezione questo è un metodo iterativo ripeto non si chiede che l'unno rappresenti il grafico della funzione x cubo questa che abbiamo visto prima x cubo più 2x più 5 l'alunno usa questo metodo seguendo il seguente ragionamento ecco consideriamo nell'intervallo meno 2 è 0 ecco ricorreggiamo l'intervallo di prima non è meno 2 è 1 ma è meno 2 è 0 consideriamo il punto medio ora perché sto considerando l'intervallo meno 2 è 0 perché il termine di bisezione che è un'applicazione del termine di zeri considera un intervallo in cui agli estremi la funzione cambia segno in meno 2 la funzione ha un segno diverso da quello che ha in 0 e questo ci consente di calcolare il punto medio tra meno 2 e 0 si fa la media tra le ascisse meno 2 più 0 riso 2 abbiamo che il punto medio è meno 1 a questo punto l'alunno calcola l'ordinata in meno 1 della cubica e in meno 1 essa assumitore pari a 2 che risulta essere naturalmente positivo il che significa che in basso io rappresento con questa linea blu le ascisse meno 2 meno 1 a 0 e in basso riporto i valori delle ordinate vediamo che in meno 2 la funzione è negativa in meno 1 è positiva e in 0 è positiva il metodo di bisezione è un po' funziona come le scatole cinesi dobbiamo considerare dei sottointervalli ogni volta considerando il punto medio degli intervalli in cui gli estremi si ha un cambio di ordinata quindi prima abbiamo considerato l'intervallo tra meno 2 e 0 e il punto medio meno 1 adesso devo vedere se abbiamo adesso due intervalli il meno 2 meno 1 e il meno 1 0 considero tra questi due quello in cui si ha un cambio di ordinata e vedo dal grafico che questo avviene in meno 2 e meno 1 quindi diciamo che in intervallo meno 2 e meno 1 in cui si ha un cambio di ordinata riapplico il teorema degli zeri in cui si garantisce l'esistenza dello zero e quindi proseguo determinando il punto medio tra meno 2 e meno 1 io ho chiamato x1 il primo punto medio il secondo lo chiamo x2 faccio la media delle estremi meno 2 meno 1 diviso 2 e viene quindi meno 1,5 in basso riporto il disegno questa volta l'intervallo è meno 2 meno 1 meno 1 e 5 il punto medio in basso riporto il segno delle ordinate in meno 2 è negativa l'ordinata in meno 1,5 è negativa in meno 1 è positiva tra questi due intervalli cioè tra l'intervallo di estremo meno 2 e meno 1,5 e il secondo intervallo di estremo meno 1,5 e meno 1 considero il secondo intervallo in quanto sia un cambio di ordinata agli estremi e qui si riapplica il teorema degli zeri quindi si riapplica la ricerca del punto medio ricordiamo che il procedimento è iterativo si itera più volte ci fermiamo quando ci accorgiamo che il volo della funzione in questo punto medio che andremo a trovare con più iterazioni è quasi nullo diciamo quindi ci fermiamo alla decimale che pensiamo esatto ecco qui allora abbiamo detto che si considera l'intervallo meno 1,5 e 1 faccio il punto medio questa volta lo chiamo x con 3 e noto anche una cosa importante la 1 deve stabilire quale i due intervalli deve considerare abbiamo detto il secondo quindi calcolo x con 3 lo faccio qui e ottengo che x con 3 vale meno 1,25 ricordiamo che x con 3 è il punto medio intervallo meno 1,5 meno 1 si fa il segno della funzione in meno 1,25 ricordiamo che la funzione è x al q più 2x più 5 e ci accorgiamo che in meno 1,25 è positiva la funzione e vale 0,54 68 ecco già è un segnale questo che la funzione si sta annullando quindi nel punto meno 1,25 vale 0, ricordiamo che lo 0 della funzione cos'è? quella scissa in cui si annulla la funzione e qui già vale 0,5 chiaramente sta a noi aumentare il grado di precisione ripeto il procedimento adesso devo vedere quale intervallo considera l'intervallo meno 1,5 meno 1,25 o l'intervallo meno 1,25 meno 1 chiaramente considero quello in cui si ha un cambio di ordinato ed è il primo questa volta quindi tra meno 1,5 e meno 1,25 si trova anche questa volta il punto medio x4 facendo la media degli estremi qui c'è un errore non è meno 1,5 è 1,25 ma è meno 1,25 quindi faccio la media tra meno 1,5 e meno 1,25 diviso 2 e ottengo come ascissa meno 1,375 calcolo il valore della funzione in questo punto e viene un valore 0,34 ci stiamo avvicinando al valore 0 meno 0 naturalmente ricordiamo che è un valore negativo questa volta faccio il solito ragionamento possiamo vedere che la fx è nulla in x4 e anche qui riporto il solito grafico dove riporto in alto le ascisse in rosa in basso le ordinate e notiamo che c'è una variazione di segno di ordinate nell'intervallo meno 1,375 meno 1,25 ecco in questo intervallo riappico il tema degli zeri quindi determino il punto medio e proseguo con questo ragionamento e mi accorgo una cosa molto interessante che il punto medio x5 è meno 1,3125 comunque ci accorgiamo che meno 1,3 diciamo la prima cifra decimale è quella esatta il 3 è esatto si tratta di aumentare la precisione delle altre cifre decimali perché comunque 0, si ottiene quindi diciamo che lo 0 che noi stiamo cercando è naturalmente meno 1,3 puntini puntini perché è quello che stiamo cercando quindi si trova diciamo nella parte della semiretta diciamo se vogliamo delle scisse negative e a questo punto possiamo fermarci con il procedimento nel senso possiamo dire che consideriamo come fermandoci al primo decimale esatto come soluzione della nel metodo di bisezione dell'equazione come 0 meno 1,3 perché nella funzione del punto meno 1,3125 vale 0,1140 e quindi diciamo che qui ci fermiamo appunto con una precisione sul primo decimale qui finisce il metodo di bisezione quindi concludendo quello che possiamo dire è questo che ripeto il grafico in gruola uno non deve farlo naturalmente io qui lo riporto per dare un'idea di quello che abbiamo fatto operativamente diciamo che operativamente io ho determinato x0 che vale meno 1,3 e possiamo intanto ecco dire questo correggere il valore quindi qui possiamo intanto mettere un meno e anche qui possiamo correggere mettendo un meno quindi diciamo che la soluzione della nel metodo di sezione dello 0 è dato da meno 1,3 puntini puntini ecco il grafico che qui noi riportiamo ci dà un'idea di di quale punto stiamo determinato stiamo trovando il punto intersezione della curva in blu con l'asse delle x quindi vediamo che l'intersezione sta nella parte di ascisse negative e chiaramente fermandoci al primo decimale possiamo dire scrivere che arrestiamo l'iterazione e diciamo che all'incirca lo 0 cercato vale meno 1,3 con questa video lezione determiniamo la spiegazione del metodo di bisezione anche se vogliamo del metodo grafico per la ricerca degli zei di un'equazione di grado n per ulteriore materiali di approfondimento si invita uno a consultare il sito matepetracca.blogspot.it o altre video lezioni presenti sullo stesso canale fine della video lezione una per una che mi che